Fanesi, allora si verificherà e si è verificato anche in queste ore un problema, nel problema oltre alla neve, oltre ai disagi, oltre a qualche cosa che potrebbe arrivare, le buche rappresentano un problema? Sì, ovviamente un problema di sicurezza, è un problema che c'è dappertutto, anche in autostrada mi segnalano che ci sono le buche, quindi figuriamoci nelle strade nostre di campagna o nelle strade cittadine, è chiaro che le piogge intense ovviamente non aiutano certamente questo problema che comunque c'era anche prima, noi ovviamente interveniamo come possiamo, interveniamo in un primo momento con dei preparati già pronti, per cui anche con la buca piena d'acqua, tra virgolette, riusciamo a mettere questi prodotti a freddo che in un certo senso tamponano la situazione e che tutto sommato riescono a garantire la sicurezza dei veicoli, poi successivamente quando il tempo ci permetterà un intervento più risolutivo, ovviamente useremo materiali più legati, ovvero prepariamo il bitume, il fondo, eccetera, quindi diciamo in generale materiali migliori e più legati. E' ovvio che in questi giorni stanno venendo fuori diverse buche, io invito la cittadinanza a ricordarsi che sul sito web del Comune c'è già una sezione dedicata per fare le segnalazioni, tutte le segnalazioni possono essere fatte sia via mail che al telefono, per cui vi invito ad esempio a chiamare lo 0721-887-347 perché tutte le vostre chiamate sono registrate, saranno raccolte, catalogate e ovviamente cercheremo di intervenire nel minore tempo possibile in base alle priorità. Vorrei anche dare una bella notizia, essendoci tra qualche giorno la tappa in un circuito cittadino del terreno adriatico, ovviamente da qui al 12 marzo molte strade, anche grosse e principali e che avevano ovviamente bisogno della manutenzione straordinaria, verranno asfaltate. Ovviamente anticipiamo quell'intervento per permettere il passaggio dei ciclisti in maniera sicura e ovviamente per dare lustro anche alla nostra città e quindi interverremo sulla strada del campo d'aviazione, su via Soncino, sulla strada di Chiaruccia, via Campanella e quindi sono strade ad esempio molto importanti, molto trafficate che avranno comunque una risposta e quindi saranno eliminate le buche, in alcuni casi ce ne sono anche di diverse e grosse per cui interverremo per sistemarle in maniera definitiva.